A distanza di qualche mese dall'avvertenza Ipersimpri, dopo la chiusura del punto vendita di Pianodaccio con il ricorso in parte alla cassa integrazione e in parte all'accettazione di alcuni trasferimenti proposti dall'azienda, qualcosa nella condotta della Smao Shan titolare del marchio sembrerebbe non andare secondo quanto concordato tra le parti, al punto che della vicenda torna ad occuparsi il tavolo istituzionale. In particolare sembrerebbe che la ditta abbia messo in discussione l'inalzamento dell'orario di lavoro per quei dipendenti in esubero che hanno accettato i trasferimenti, in alzamento essenziale per compensare le spese di trasferimento. L'azienda non sta rispettando i termini dell'accordo in particolare per quanto riguarda i trasferimenti che erano l'unica proposta che faceva la Smao rispetto alla chiusura del punto vendita di Teramo. Invece con i loro comportamenti stanno dimostrando che in realtà non avevano intenzione di trasferire nessuno perché per esempio avevamo concordato di aggiungere 4 o 6 ore ai contratti in essere dei lavoratori che si trasferivano per far sopportare loro il peso anche dei viaggi e invece poi non hanno creato le condizioni per aggiungere queste ore ma anzi hanno chiesto ai lavoratori una modifica del contratto iniziale. Una serie di situazioni per cui noi siamo tornati a confrontarci con l'azienda, adesso ci riaggiorneremo al 27 febbraio proprio per avere una proposta ultima da parte dell'azienda. E' chiaro che non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose proprio perché l'asma continua a venire meno agli impegni presi con le organizzazioni sindacali, con i lavoratori dell'Ipersimpli ma anche con tutto il nostro territorio.